ed eccoci pronti cari amici con i dischi caldi italiani la classifica ufficiale di honda web radio secondo i nostri dati raccolti in base ai brani che avete maggiormente richiesto questa settimana ma c'è una novità per la classifica italiana da questa settimana la classifica è anche quella di all music italia e quindi siamo felici di darvi il benvenuto anche sulle pagine web del noto sito musicale noi partiamo immediatamente alla numero 20 dove c'è uno scivolone pazzesco 9 posizioni meno tiziano ferro con rimmel alla numero 19 lima qualcosa la band di tiro mancino con finché ti va scivola dalla 5 alla 18 harakiri di samuele bersani continua a scendere gaglia che perde tre posizioni alla 17 con coco chanel e alla numero 16 invece inverte la rotta guadagna tre posizioni irama con crepe e non lo vedi che e lui non vedi in me dirgli che tu eri mia mia dirgli che tu eri mia mia perde 5 posizioni e lascia la top 10 dopo una sola settimana a fedez che incontriamo alla numero 15 con bella storia continua a scendere ma noi ci fermiamo comunque per ascoltarlo meno 2 alla 14 c'è achille lauro con maleducata si ti voglio sempre così davvero fammi male ora che sto qui con te si la mano uccide sei il mio sicario vai ti voglio sempre così maleducata ti voglio sempre così ti voglio sempre così fuori dalle top 10 anche Tommaso Paradiso che scivola dalla numero 6 alla 13 con Ricordami mentre alla numero 12 risalgono di tre posizioni Gepe Canyon, Rossville Lane e Luque questa è Chico gli occhi Chico non mentono mai e tu sei la mia piccola copia come un bonsai anche se ti vengi in giro come un leader tu lo sai che sei vinto come le piste di neve a Dubai li vedo tutti insieme si incoraggiano da soli ma qua nessuno li teme, nessuno gli deve i soldi nessuno li vuole morti tanto già sono innocri se la situazione è calda si squagliano come gli accioli per me è un parco giochi come sparare fuochi lo uccide lo sistema in una barra con due fiocchi non è che prima ti sfoghi e poi gli haters li blocchi questi hanno paura fra glielo leggo negli occhi Visco caldo della settimana secondo le classifiche di Onda Web Radio e All Music Italia e Liga 2 che scivola dalla 4 alla 11 con la ragazza dei tuoi sogni per il momento è tutto ma fra poco parleremo di Top 10 Ciao! Ciao! Ciao!